Come sarà l'auto del futuro e quali motori monteranno le vetture del prossimo millennio in corso nel capoluogo? La Bari Automotive Summer School, tecnici e ingegneri a lavoro per studiare le innovazioni su quattro ruote. Gianni Matera. Passa da Bari l'auto del futuro, 45 tra ingegneri, dottorandi e laureandi del settore industriale dell'ingegneria provenienti anche da varie sedi internazionali, sono impegnati in questi giorni nel ripensare come saranno i motori e l'automobile dei prossimi anni. La Summer School che proponiamo quest'anno è sensibilmente diversa da quelle degli anni precedenti perché è un prodotto dinamico che insegue i tempi e sicuramente i tempi dell'automotive stanno subendo delle accelerazioni importanti e quindi i temi di quest'anno sono molto centrati sulla mobilità elettrica, sulle sue opportunità, sulle sue reali possibilità, sulle sue reali capacità di essere attuata in tempi brevi o meno, quindi electric engine e veicoli ibridi. Le auto elettriche per gli spostamenti in ambito urbano, trazione elettrica anche per il trasporto pubblico, due ruote e piste ciclabili e questo è il futuro dei trasporti e delle città. Qual è l'attrattiva di Bari per un corso di progettazione di auto e motori? Il Politecnico di Bari, quindi la presenza di un centro di ricerca che è ritenuto un'eccellenza in campo nazionale e internazionale, è un indotto industriale che ormai è sicuramente ben presente sul territorio, ben impiantato sul territorio e quindi la presenza in questo caso di Bosch, partner con il centro ricerche per veicoli, è sicuramente un altro degli elementi importanti per determinare un caso di successo pugliese. Grazie a tutti.